Il mercato settimanale di Fiumefreddo di Sicilia da qualche mese si è spostato in via di Vittorio. Dopo essere stato per molti anni in piazza 25 Aprile e in via Mario Rapisardi, un'ordinanza sindacale ne ha prescritto lo spostamento temporaneo. Nell'attuale area il mercato settimanale si estende lungo via di Vittorio, interessando anche un tratto di via gentile nel tratto di strada adiacente a piazza Francesco Aiez. Lo spostamento si è reso necessario sia al fine di sgomberare la via di fuga della scuola media che per rendere praticabile piazza 25 Aprile quale area di raccolta in caso di calamità naturale, zona individuata all'interno del piano di protezione civile sia per la scuola che per i cittadini. Inoltre la nuova collocazione, ricadendo in uno spazio più vasto, consente la sistemazione di più stalli. Più di due mesi fa il sindaco ha rinnovato l'ordinanza di spostamento temporaneo, ma le nuove disposizioni devono ancora essere perfezionate e passare al vaglio del Consiglio Comunale. Solo allora la zona individuata diventerà definitiva. L'attuale area, peraltro, è stata individuata al momento come l'unica adatta al mercato settimanale. Il sindaco Marco Alosi sottolinea che la scelta della sudetta zona è stata fatta dopo aver sentito le esigenze di Confcommercio e Confesercenti e di concerto alle due associazioni di categoria verrà eventualmente confermata. Ci sono oltre 100 staglie a disposizione del mercato del martedì, ma alcuni dei commercianti stanno perdendo il diritto allo stallo per il mancato pagamento della Tosap. Diminuiscono quindi le attività di commercio del mercato settimanale. A ciò si aggiungono le lamentele di alcuni cittadini, soprattutto anziani, che considerano il mercato eccessivamente dispersivo, non riuscendo a visitarlo per intero, dato che si trova collocato in una strada con forte pendenza. Per cui, fatta la parte in pianura, si rinuncia alla salita che inizia dopo la rotonda.